La commissione che si occuperà della gestione del museo di Praia a mare ha effettuato ieri pomeriggio un primo sopralluogo presso la struttura comunale del nuovo organismo. Fa parte anche il capogruppo di Uniti Rilanciamo Praia, Pietro De Paola, che ha voluto chiarire il suo ruolo. Ho chiarito già ai presenti della commissione che io solo in questa circostanza, ho fatto parte di questo incontro, cercherò chi mi sostituisce perché preferisco che né io né Anna Maria De Presbiteris partecipiamo a questa commissione perché facciamo parte della parte politica e vorremmo che andasse a collaborare in questa commissione qualche soggetto che non fa parte del consiglio comunale. Una collaborazione importante tra maggioranze uniti che si ripeterà anche in altre occasioni. Lo faremo anche per altre situazioni tipo il centro anziani, tipo il centro di aggregazione giovanile, parteciperemo a delle varie commissioni che poi gestiranno e daranno l'indirizzo a quelle che poi saranno le attività di queste strutture. Ma la presenza di De Paola nella commissione ha alzato anche delle polemiche, soprattutto su Facebook, dove si è gridato nuovamente all'inciucio tra Uniti e maggioranza. Ed ecco come ha risposto De Paola. Cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo affinché queste battaglie politiche, questa politica gridata abbia una sua fine. Siamo per il dialogo e se c'è qualcuno che grida all'inciucio si deve mettere d'accordo con se stesso. Perché? Si voleva dialogare con la maggioranza. Se la maggioranza dialoga con noi che siamo gruppo in consiglio comunale non possiamo fare altro che prenderne atto. Sia la collaborazione con la maggioranza senza perdere di vista il proprio ruolo. Uniti e resta un gruppo di opposizione. Questo in sintesi il messaggio di De Paola. Chi lo critica? In consiglio comunale noi sulle questioni importanti tipo la Tares, tipo l'Imu, tipo l'ambliamento del lungomare, tipo la tassa di soggiorno abbiamo votato contro. Dunque ci sono gli atti che parlano. Poi le chiacchiere che si fanno nei vari punti strategici del paese, nei punti di ritrovo, lasciano il tempo che trovano. Poi c'è gente che vuole capire e dice le cose che gli conviene per buttare fango addosso al nostro gruppo. Quella è un'altra faccenda. Noi puntiamo alla pacificazione sociale e a raggiungere uno Stato che a Praia manca da 30 anni.